Un'occasione per il Trentino molto rilevante, un onore, un orgoglio essere qui a rappresentare le nostre eccellenze frutto del grande lavoro e della passione dei nostri agricoltori, dei nostri consorzi, del nostro settore cooperativo ma è anche un momento di dialogo e di confronto con il Ministro e con gli Assessori delle altre Regioni anche in vista delle prossime decisioni che dovremo prendere sulla nuova PAC. In molti momenti, anche questa mattina, un convegno interessante dove le istituzioni si sono messe a confronto e come provincia autonoma di Trento i temi che abbiamo portato in risalto sono quello della gestione del rischio, dell'acqua, della formazione, della ricerca, del ricambio generazionale condito ovviamente anche dal tema della competitività e dell'innovazione.